Una domanda che ti fai spesso? Ho aperto la finestra oggi, dove chiaramente non è la finestra di casa, ma è questa testa qua. Alcune volte noi manager, soprattutto nelle multinazionali, siamo talmente immerse nel guardarci dentro, dentro l'azienda, quello che facciamo, quello che va e quello che non va, e cosa possiamo fare meglio che ci perdiamo tutto quello che sta succedendo fuori. Quindi lo dico a me stessa, ma lo ripeto ogni giorno alle mie figlie e tutto il team che lavora con me, guardati intorno, ma guardati intorno, apri la finestra, fatti rinfrescare le idee, vedi quello che sta succedendo, anche in campi totalmente diversi, perché ogni giorno devi essere curioso e umile allo stesso tempo, devi poter imparare a trarre beneficio da quello che succede e portarlo dentro per migliorare te stessa e il tuo lavoro. Quindi veramente questo è quello che ogni tanto dico, ma da quanto tempo non vado fuori a prendermi un caffè con un'amica per farmi una chiacchiera, o con un collega, o vado in giro, probabilmente io lavoro nel mass market, nei supermercati a vedere gli scaffali, sembrano stupidaggini, ma passano mesi che magari mi capita di non andare. Dico, ma di cosa parlo? Io vendo prodotti ai supermercati, non vado in un supermercato da tre mesi, quindi effettivamente è importante. Grazie a tutti.